Grazie Presidente, vorrei rincarcare la mozione riguardo al teleolavoro del nostro Paese, a porta di un'invita in Europa. Mi permetto veramente di rincarcare i vantaggi che potrebbero fare l'utilizzo del teleolavoro anche nel nostro Paese, a porta benefici per le aziende che garantisce una maggiore produttività degli impiegati, risparmi sui costi degli immobili e riduzione del sentismo, a porta dei benefici per gli impiegati che c'è più tempo disponibile, meno tempo dedicato a spostamento casa a lavoro che sappiamo benissimo cosa comporta su tutto l'attività delle condizioni, riduzione del costo per abbonamenti del trasporto pubblico o acquisto e manutenzione dei venditi. Inoltre apporta dei benefici radevoli per il Comune perché c'è una minor domanda di trasporto, quindi minori spostamenti che vuol dire meno inquinamento, meno incidenti, migliore qualità della vita, più tempo da dedicare alla famiglia e al tempo libero. Quindi appunto noi ci auguriamo che oltre a votare in maniera favorevole questa mozione, il Comune e la Giunta si impegnano per mettere in atto tutti quei provvedimenti che possano garantire anche dal punto di vista pratico, dal punto di vista materiale, l'infusione del telelavoro anche per i cittadini residenti a Roma. Grazie. Grazie.